Gli italiani spesso si chiedono quando andranno in pensione e l'Inps avrà i soldi per pagarla. Dietro a queste semplici domande ci sono degli argomenti molto complessi che riguardano non solo l'economia ma anche la demografia. In Italia l'aumento dell'aspettativa di vita e il basso tasso di natalità portano a un costante invecchiamento della popolazione. Nel 2050 il rapporto tra gli over 65 e coloro che avranno tra i 15 e i 64 anni sarà addirittura del 62,5%. Questa tendenza mette sotto pressione il sistema pensionistico pubblico e in particolare il rapporto tra la prima rata della pensione e l'ultimo reddito da lavoro percepito che già oggi è in media solamente del 70%. Per mantenere lo stesso tenore di vita è necessario quindi integrare la pensione ma come farlo? Una soluzione è la previdenza complementare. Si tratta di uno strumento che consente di effettuare un'adeguata pianificazione finanziaria capitalizzando i propri risparmi nel tempo a partire anche da piccoli importi. Per maturare l'anzianità che consente di godere dei benefici fiscali conviene sottoscrivere un fondo pensione il prima possibile. Quando si è ancora giovani? Anche se diversi studi di finanza comportamentale dimostrano che gli italiani non pensano alla pensione sino circa ai 40 anni. Come dicevamo tra i principali vantaggi della previdenza complementare ci sono i benefici fiscali. Se nella pensione pubblica l'importo finale ricevuto è determinato dalle 5 aliquote marginali IRPEF che vanno dal 23 al 43% per cui quel 70 si riduce ancora, i frutti della previdenza complementare sono tassati invece fra il 9 e il 15%. Un'ulteriore agevolazione è inoltre la deducibilità annuale dei contributi dal proprio reddito per un tetto massimo di oltre 5.000 euro. Ma c'è un altro aspetto molto rilevante che è il rendimento. Anche in questo caso i vantaggi rispetto al sistema pubblico sono evidenti. Infatti i contributi versati a quest'ultimo vengono rivalutati in base all'incremento medio quinquennale del PIL. Purtroppo la crescita della nostra economia negli ultimi anni è stata talmente bassa che tra il 2015 e il 2017 il legislatore è dovuto intervenire per evitare che il tasso di rivalutazione dei contributi fosse negativo. Le linee dei fondi pensioni invece hanno reso in media tra il 6 e il 7% rivelandosi più efficaci nella protezione del capitale. Il risparmio previdenziale tramite l'adesione a un fondo pensione e il risparmio finanziario con i PAC sono due compagni di viaggio che ci permettono di pianificare il nostro futuro in modo disciplinato e graduale.